Quale Triestino non conosce Sappada? Un territorio montano che da sempre si sentiva ricompreso nella nostra regione, ma che ora, dopo l'esito del referendum, ne fa ufficialmente parte. Un passaggio, quello dal Veneto al Friuli Venezia Giulia, che però comporta tutta una serie di aggiustamenti dal punto di vista tecnico e amministrativo. Beh, oggi è una giornata importante perché abbiamo avuto la possibilità di incontrare, insieme al Presidente, la Giunta Comunale del Comune di Sappada e avere modo con loro di affrontare tutte le criticità che il passaggio del Friuli Venezia Giulia ha comportato, sicuramente inferiori ai benefici del passaggio, ma che comunque criticità che vanno affrontate per tutta una serie di problematiche relative proprio al passaggio burocratico. Da sempre Sappado, Pluden, nel dialetto tedesco sappadino, è un comune squisitamente turistico, che basa la sua economia sull'essere un'importante stazione scistica. Anche quest'area dolomitica incastonata tra la carni e il cadore ha subito in modo pesante le conseguenze dell'ondata di maltempo invernale e sconta da tempo un gap infrastrutturale che conta di colmare al più presto. Bisogna sottolineare il forte impegno che già il Comune ha messo in campo e gli stessi funzionari regionali per risolvere i privi problemi, ma credo che dobbiamo andare verso una soluzione strutturale che possa accompagnare il Comune giorno per giorno. Inoltre, per quanto riguarda invece il maltempo, l'importante stanziamento arrivato dal Governo nazionale di più di 360 milioni di euro deve trovare risposte veloci e un recupero ambientale e turistico di tutte le aree colpite. Su questo credo che dobbiamo fare un piano condiviso e andare a risolvere anche quelle criticità strutturali di tutte le zone turistiche, specialmente di montagna, per dare servizio, favorire investimenti, perché anche in questo caso la Regione metterà le risorse necessarie per le infrastrutture, ma dall'altro lato vogliamo coinvolgere i privati perché non esistono investimenti pubblici se non si coinvolge il privato che attrae turismo e crea sistema all'interno di queste aree che oltretutto sono un gioiello che abbiamo nel nostro territorio e dobbiamo valorizzare sempre di più.